Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Francesco Cherubini che mi chiede di parlare del film di Luigi Zampa del 1968 con un grandissimo Alberto Sordi, il medico della mutua. Una delle nostre commediali italiane più famose perché anche questo è cattivissimo, film che descrive in un certo senso la nostra sanità del periodo ma soprattutto l'arrivismo dei dottori che pensano a tutto tranne che a curare i malati nella storia di Guido Terzilli, giovane laureato in medicina che non viene una famiglia ricchissima che cerca di iniziare a fare carriera e cercano di trovare mutuati. Ma piano piano con degli stratagemi che non mi sto a dire, insieme alla madre e alla ragazza Teresa riesce ad aprirsi praticamente un suo spazio e insomma per essere considerato e trovare gente comincia a lavorare anche gratis in ospedale e nemicandosi tutti i colleghi che comunque sono tutti pezzi di merda, niente da dire, interpretati alla stragrande da Gianfranco Barra, Franco Abbina, Sandro Dori, Sandro Merri che sono veramente delle facce incredibili per questo film, insomma dove il nostro a un certo punto occhia questo dottore anziano e decide praticamente di far finta di innamorarsi della moglie di questo, Amelia, per cercare di beccare tutti i suoi 2300 mutuati e diventare sempre più ricco, facendo infuriare ancora di più i colleghi che lo odiano sempre di più proprio perché comunque a un certo punto loro aspettavano proprio che morisse questo qui anziano per dividersi i propri malati. E poi a dire tutto quello che succederà, insomma con Teresa che lo vorrà ammollare, lui che cercherà ancora di essere più a rivista fino a un finale che continua ad essere comunque cattivissimo. Alberto Sordi qui dà una prova di grandissimo talento, recitativo, un mostro, un po' sopra le righe ma sicuramente come vuole il personaggio. La regia è formidabile, ha i tempi completamente giusti, ha la sceneggiatura di Amidei, Luigi Zampa con una mano anche di Alberto Sordi per il suo personaggio, comunque è di quelle che funziona. Questo è un classico film all'italiana di quelli che insomma all'epoca lasciarono il segno di brutto, è un calto assoluto, ha un'idea appunto al solito di descrivere l'italiano medio, sia anche buonaccione, che comunque è parassitario, cerca in tutti i modi di recuperare di tutto per fare soldi in questo boom ok degli anni 60 ed è incredibile come appunto il film sia un attacco in realtà sia alla sanità ma soprattutto anche a un sistema che propone alla persona di dover salire sempre più di livello per poter sempre lavorare meglio e soprattutto fare sempre più soldi, avere sempre più potere ed essere sempre più indipendente. In tutto questo il personaggio di Alberto Sordi è un personaggio infido, incredibile, che però fa ridere così come fanno ridere alcune situazioni che però sono terribili, le classiche risate sotto i denti della classica commedia all'italiana che in realtà descrive proprio la perfidia umana, descrive l'invidia, descrive la mancanza proprio di amore verso i propri pazienti, di alcuni dottori, è un film veramente terribile e allo stesso tempo divertentissimo nel raccontare appunto i mali di un'Italia e i mali degli italiani. Fotografia di Anno Guarnieri bellissima, ottime musiche pieghi al piccioni, però un super caldo, esattamente se ne sta a parlare di più. Il Manico della Mutua è veramente un film di quelli con Sordi più famosi di tutti, dove appunto Sordi va un po' sopra le righe ma riesce a mantenere il suo personaggio e il film è uno di quei classici film che sono capo d'opera italiana, nel senso l'ho visto mille volte da bimbo, si sa a memoria, anche qui lo spirito critico forse va un po' a puttane, però va anche detto che comunque il film di suo è veramente ben fatto. fantastica vicevalori nel ruolo di Amelia, appunto la moglie più anziana del dottore che sta per morire, splendida Sara Franchetti nel ruolo di Teresa, ottima Nanda Primavera nel ruolo appunto della madre di Guido, per un film che come ho detto è diventato un classico, un classico dove appunto, però come al solito si vede la differenza con le commedie di oggi, il tutto è veramente filtrato come commedia da un'ottica però cattivissima, dove non si risparmia nessuno, dove si cerca di attaccare le magagne attraverso anche un certo tipo di situazioni grottesche che comunque fanno veramente ride e anche dei dialoghi che sono scritti veramente di lusso, anche stavolta un film per me bomba, un calto assoluto, uno di quei film italiani degli anni 60 della nostra commedia che è veramente fantastico per come in realtà in molte cose non si è invecchiato per nulla, contestualizzandolo era veramente un film completamente fuori di cervello detto questo, quindi per me è semplicemente un film da vedere e rivedere, il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube, c'è la righetta vi sotto mi raccomando, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia, comunque per chi non l'avesse mai visto questo medico della mutua, minimo, si merita una bella occhiata, ma se non sottoscritto si amate il cinema italiano, insomma, si merita di essere di moltone comprato, il link è qua sotto.